E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie abbonati al canale. Buona visione! Dopo un periodo più o meno lungo il discepolo si trova davanti alla porta dell'iniziazione. Dobbiamo ricordare che ci si avvicina a questa porta e si avanza verso il maestro con i piedi lavati nel sangue del cuore. Come detto nel libro la luce sul sentiero. Ogni passo avanti è sempre frutto del sacrificio di tutto ciò che su un piano o sull'altro è più caro al cuore. Sacrificio che deve sempre essere volontario. Chi percorre il sentiero della prova e il sentiero della santità ne ha valutato il prezzo. Ha riorientato il proprio senso dei valori e i suoi giudizi che non sono quelli dell'uomo comune. Egli tenta di prendere il regno con violenza e in questo tentativo si prepara la sofferenza che ne deriverà. È un uomo che pur di conquistare la meta considera tutto perduto e che nello sforzo per dominare il sé inferiore è disposto a sacrificarsi anche fino alla morte. Alla prima iniziazione l'ego deve aver acquistato un notevole dominio sul corpo fisico. I peccati della carne, secondo la fraseologia cristiana, devono essere dominati. Ghiottoneria, alcolismo e dissolutezza non devono avere alcun potere. L'elemento fisico non deve più trovare risposta alle proprie richieste. Il dominio deve essere completo e ogni allettamento scomparso. Un atteggiamento generale di obbedienza all'ego deve essere presente e la disposizione ad obbedire deve essere molto forte. Il canale fra il superiore e l'inferiore è ampliato e l'obbedienza della carne è quasi automatica. Il fatto che non tutti gli iniziati siano a tale altezza può essere attribuito a diverse cause, ma la nota che fanno risuonare dovrebbe essere quella della rettitudine. Essi riconosceranno i propri errori con sincerità e apertamente e si sforzeranno in modo palese di conformarsi al livello di comportamento più elevato, anche se non potranno raggiungere la perfezione. Gli iniziati possono cadere e cadono, incorrendo così nella punizione secondo la legge. Cadendo possono nuocere e nuociono al gruppo e con ciò incorrono nel karma di riassestamento, dovendo espiare l'offesa fatta con un servizio più prolungato, nel quale, seppure inconsciamente, gli stessi membri del gruppo applicheranno la legge. Il progresso di questi iniziati verrà seriamente ostacolato, poiché molto tempo andrà perduto nell'esaurire il karma riguardante i danneggiati. Il fatto di essere un iniziato e perciò veicolo di forza di tipo molto potente fa sì che la caduta dal giusto sentiero abbia effetti più potenti che per un uomo meno avanzato. La ricompensa, come la punizione, saranno quindi maggiori. Prima di poter procedere sulla via, il prezzo deve essere inevitabilmente pagato. Quale sarà l'atteggiamento del gruppo danneggiato? Esso riconoscerà la gravità dell'errore, accettandone saggiamente le conseguenze. Si asterrà da una critica non fraterna e irradierà amore sul fratello che ha errato. Tutto ciò accompagnato da un'azione che dimostri chiaramente a chi osserva dall'esterno come tali errori e infrazioni della legge non siano condonati. Nel gruppo interessato si assumerà inoltre un atteggiamento mentale tale da indurre, pur con la dovuta fermezza, ad aiutare il fratello a scorgere il proprio errore, ad esaurire il karma retributivo e infine, fatta la debita ammenda, a ristabilire la considerazione e il rispetto nei suoi confronti. Non tutti evolvono esattamente lungo le stesse linee di sviluppo e non è quindi possibile stabilire regole fisse per l'esatto procedimento da seguire ad ogni iniziazione, né riguardo ai centri che devono essere vivificati e la visione che verrà concessa. Molto dipende dal raggio del discepolo o dalla particolare direzione del suo sviluppo. Generalmente le persone non si sviluppano in modo uniforme. Dal karma individuale ed anche dalle esigenze di un determinato periodo. Tuttavia, si può suggerire che alla prima iniziazione, la nascita di Cristo, di solito viene vivificato il centro del cuore, allo scopo di ottenere un dominio più efficace sul corpo astrale e di servire l'umanità in modo più valido. Dopo questa iniziazione, l'iniziato verrà istruito principalmente sui fatti del piano astrale. Dovrà stabilizzare il proprio corpo emotivo e di imparare ad operare su quel piano con la stessa facilità con cui lavora su quello fisico. È messo in contatto con i dev astrali. Impara a dominare gli elementi astrali. Deve operare con facilità nei sottopiani inferiori e il valore e la qualità del suo lavoro acquistano maggior valore. Questa iniziazione trasferisce dall'aula dell'apprendimento all'aula della saggezza. In tale periodo, l'importanza maggiore è data nettamente al suo sviluppo astrale, sebbene la preparazione mentale proceda costante. Tra la prima e la seconda iniziazione possono trascorrere molte vite. Passa un lungo periodo di numerose incarnazioni prima che il dominio sul corpo astrale sia perfezionato e l'iniziato sia pronto per il passo successivo. Vi è un'interessante analogia nella vita dell'iniziato Gesù contenuta nel Nuovo Testamento. Molti anni trascorsero fra la nascita e il battesimo, mentre gli altri tre stati furono raggiunti in soli tre anni. Dopo la seconda iniziazione il progresso sarà rapido e la terza e la quarta seguiranno probabilmente nella medesima vita o nella successiva. La seconda iniziazione costituisce la crisi nel dominio del corpo astrale. Come alla prima si è dimostrato il dominio sul corpo fisico, ora va dimostrato sul corpo astrale. Il sacrificio e la morte del desiderio sono stati la meta dello sforzo compiuto. Il desiderio stesso è stato dominato dall'ego e ora, l'iniziato, anela soltanto al bene del tutto in accordo con la volontà dell'ego e del maestro. L'elemento astrale è sotto controllo. Il corpo delle emozioni è puro e limpido e la natura inferiore muore rapidamente. Ora l'ego fa di nuovo presa sui due veicoli inferiori e li piega la propria volontà. L'aspirazione e il desiderio di servire, amare e procedere diventano così intensi da produrre generalmente uno sviluppo rapido. Questo spiega perché la seconda e la terza iniziazione si succedano spesso, non sempre, in una stessa vita. Nell'attuale periodo si è dato un tale stimolo all'evoluzione che le anime che aspirano al servizio, sensibili all'angoscioso grido d'aiuto dell'umanità, tutto sacrificano per rispondervi. Non commettiamo però l'errore di pensare che tutto questo avvenga per stadi fissi e consecutivi. Molto viene compiuto contemporaneamente e all'unisono, poiché giungere al dominio è un processo lento e duro. Ma negli intervalli, fra le prime tre iniziazioni, ognuno dei tre veicoli inferiori deve raggiungere un preciso stadio di evoluzione e mantenerlo prima che un'ulteriore espansione di coscienza possa essere permessa senza incorrere in pericoli. Molti di noi che percorrono il sentiero della prova attualmente lavorano su tutti e tre i corpi. Alla seconda iniziazione, se viene eseguito il decorso ordinario, ciò che ripetiamo non è detto, viene vivificato il centro della gola. Ciò conferisce la capacità di mettere a disposizione del servizio al maestro e agli uomini il proprio patrimonio mentale inferiore. Viene conferita la capacità di manifestare ed esprimere, forse con la parola parlata, ma certamente con qualche forma di servizio, ciò che può essere di aiuto. Viene accordata una visione della necessità del mondo e mostrata un'ulteriore parte del piano. Per giungere alla terza iniziazione, il punto di vista personale deve sconparire di fronte alla necessità del tutto, ciò che implica il completo dominio della mente concreta da parte dell'ego.